Mancano pochi minuti alle 10.30. Fuori da Palazzo Ducale si è già formata la coda. All'interno, le maestose sale di quello che fu il cuore politico di uno Stato che in 1100 anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee, attendono l'ingresso dei primi visitatori dopo mesi di chiusura per coronavirus. Punta di diamante degli 11 musei civici veneziani, Palazzo Ducale riapre al pubblico, al termine di un vivace dibattito cittadino, nei giorni in cui riaprono hanno riaperto anche i musei statali e privati di Venezia. Ci tenevamo oggi dare questo segnale importante di vita, di vita Venezia. Venezia riparte. Che risposta si aspetta dai veneziani? Venezia è una città forte, coraggiosa e resiliente e quindi mi aspetto una grande risposta dai veneziani perché questi sono i salotti dei veneziani, ma siamo tutti veneziani in questo momento. Alle 10.30 in punto si spalancano i portoni. Dopo la misurazione della temperatura i visitatori devono anche passare attraverso un metal detector, giusto per ricordarsi che il coronavirus non è l'unico problema di questi anni. Le sale iniziano timidamente a popolarsi ed è curioso che tra i primi a rivelarsi sensibili a richiamo del Ducale ci siano diversi tra quelli che potremmo definire i nuovi veneziani. Voi siete veneziani da poco tempo, da dove venite? Dalla Baviera, vicino Monaco. Perché avete deciso di trasferirvi a Venezia? Perché è Venezia e per noi è la città più bella del mondo. Io credo è molto importante la cultura, i musei, il teatro. Di dove è lei? Io sono brasiliana. Viva Venezia. Viva Venezia da sei anni. Mi ha deciso di venire qui oggi. Perché sarà il primo giorno che questo bellissimo palazzo è aperto e credo che lui deve essere aperto anche per noi che siamo cittadini, che viviamo in questa città, perché lui fa parte della nostra storia. L'ha infastidita le polemiche politiche che hanno accompagnato questa riapertura? No, non mi infastidisco. Guardi, io ho notato tanta passione e tanto amore per questa città e per questi musei. Come le ripeto, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono prontissima a sedermi a qualsiasi tavolo per poter immaginare un turismo diverso che abbia a cuore il bene di Venezia.